e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi oggi parliamo di un super super monopattino elettrico due motori elettrici uno sull'anteriore uno sul posteriore 60 volt 6000 watt come potenza sono disponibili due modelli differenti cosa cambia cambia ragazzi la batteria in uno monta un pacco batterie panasonic 40 ampere ora il secondo un 50 ampere ora con 40 ampere ora di batteria stimono una percorrenza che va dai 90 ai 120 chilometri invece col 50 ampere ora circa 120 150 chilometri ragazzi è un colosso è enorme è bello mi piacerebbe averlo però il problema lo hai già letto dal titolo in italia è illegale è illegale per la potenza è illegale anche per la velocità perché arriva anche ad oltre 85 chilometri orari è limitabile elettronicamente a 25 chilometri orari però per via della potenza ragazzi è illegale monta due gomme da 13 pollici vuote dentro e questo ti aiuta anche con la percorrenza di sterrati strade diciamo non asfaltata alla perfezione e anche la sua potenza stessa la coppia e anche il gruppo diciamo di ammortizzazione sia sull'anteriore che del posteriore fa sì che questo mezzo ragazzi sia un mezzo ottimo per l'off road per l'utilizzo in strade di montagna qui ti mostra tutti i vari accessori freni luce led anteriore e il clacson e ammortizzatore 138 centimetri 142 centimetri per 132 quando è tutto aperto ragazzi è un bel mezzo pesa perché pesa è grande perché è grande però tanta 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 potenza abbiamo detto anche freno a disco anteriore freno a disco posteriore ti faccio vedere eccolo qui questo è tutto il quadro strumentazione e abbiamo modalità eco turbo single o dual motor perciò da qui vuoi andare a abilitare o disabilitare un motore perciò per avere un consumo minore per esempio se non ti serve prudenza eccessiva disabiliti uno e vai avanti con uno solo e questo è il display dove ti indica il voltaggio della batteria così da avere sempre sotto controllo appunto anche i volt molto importante la batteria è una 60 volt in questo caso indica 59.1 perciò possiamo dire che quasi carica al massimo chiave per accensione spegnimento un altro display dove ci indica i chilometri orari e i chilometri percorsi e via grafica eccolo qui ci indica la percentuale di batteria rimasta on off per accendere spegnere questo display trovi il link del monopattino sotto in descrizione freni anteriore e posteriore comunque ragazzi un bel mezzo davvero qui abbiamo on off generico l'indicatore direzionale perché sul retro anche le frecce ora vi faccio vedere sul video che stai vedendo vedrai anche le frecce sul posteriore destro sinistro anche luci led posteriori rosse per quando freni comunque ragazzi un bel bel giocattolino bello 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 il prezzo dipende dal modello e andiamo da 2.500 dollari fino a 2.728 dollari spedizione o da cina o da spagna non cambia il prezzo spedizione sempre gratuita in italia ma ragazzi a chi piace può farsi un pensierino per me è bello fatto anche bene qui sotto si nasconde la batteria qui invece ci sono i due controller per il motore anteriore e posteriore ragazzi per questo video è tutto iscriviti al canale mi raccomando un commento lascia un like ciao e al prossimo video